Il Signore ci difenda dalla tentazione dell'ambizione, dal sentirci più grandi degli altri e ci dia la grazia della santa vergogna di fronte alla tentazione di usare il Signore per arrampicarci, che coinvolge tutti, anche la comunità ecclesiale. È stata la preghiera con la quale Papa Francesco ha concluso l'Omelia della Messa del Mattino celebrata a Casa Santa Marta. Commentando la pagina del Vangelo di Marco, che racconta la discussione tra i discepoli su chi fosse il più grande tra loro, il Papa ha sottolineato che volevano seguire il Signore, ma si rendevano conto che il servizio a Cristo non era così facile. E poi si fanno tentare dalla mondanità, dalla vanità, come succede anche nelle nostre parrocchie, ai laici, ai preti, ma anche ai vescovi. Vorrei quella diocesi perché è più importante, ma il Signore è qui, il tuo servizio è qui, nella tua diocesi, ha ricordato Francesco. Che il Signore ci dia la grazia della vergogna, quella santa vergogna, quando ci troviamo in quella situazione, sotto quella tentazione, vergogna, ma io sono capace di pensare così quando vedo il mio Signore in croce e io voglio usare il Signore per arrampicarmi. E ci dia la grazia della semplicità di un bambino, capire che è soltanto la strada del servizio. E forse io immagino un'ultima domanda. Signore, Ti ho servito tutta la vita, sono stato l'ultimo tutta la vita, e adesso che? te. Cosa ci dice, Signore? Di te stesso servo inutile sonno.